buonasera parliamo di un altro capitolo del libro dieci splendidi oggetti morti gli oggetti sono dieci uno di questi è la penna che è il punto di partenza della piccola discussione di oggi perché intanto la penna è un oggetto morto è un oggetto morto perché non perché sia morto effettivamente perché insomma adesso non ne ho portata di mano ma di penne ovviamente continuiamo a utilizzarne ma perché il suo utilizzo principale è andato via via scemano negli anni ora io ho un'età particolare credo in questo caso davvero particolare perché ho attraversato tutte le ultime stagioni che riguardano i mezzi per per segnare le parole su un foglio o da un'altra parte io ho un ricordo molto vago delle primi anni delle scuole elementari dove ancora non c'erano le penne a sfera quindi noi abbiamo imparato a scrivere le lettere si facevano queste lunghe pagine pagine di a di b di c con un pennino in tinto nell'inchiostro subito dopo come tutti insomma come tutti quelli più giovani di me ho cominciato a scuola usare la penna quella con un inchiostro meglio gestibile insomma la famosa penna sfera poi sono passato anche per molto presto devo dire anche per affinità personali all'utilizzo delle tastiere perché mi piacevano i computer perché sono quando è nata internet ho cominciato a utilizzarla subito e poi ovviamente ho seguito abbastanza perseguamente tutto l'iter successivo di cui parleremo fra poco ecco anche in questo caso il punto fondamentale del capitolo sulla penna ma in generale l'idea che sta una specie di architettura che è dietro ogni capitolo di questo libro è quello intanto di individuare una traiettoria cioè vedere perlomeno negli ultimi decenni cosa è successo come sono cambiate le nostre abitudini legate a un particolare oggetto e accanto a questo quando è possibile perché talvolta non lo è cercare di immaginare se questo percorso ha influenzato le nostre vite in maniera più o meno forte e soprattutto se questa è la domanda delle domande che spesso non ha risposta se questo percorso è un percorso di miglioramento o invece il contrario e allora sulla penna ho un'idea è un'idea che è stata poi sviluppata e che vorrei cercare di concretizzare un po meglio partendo da due punti che sono i due punti di origine di questo capitolo il primo è una specie di citazione storica molto famosa molto citata che la vecchia famosissima citazione dal federo di platone nel quale il filosofo dice state attenti alla scrittura scrittura pericolosa la scrittura è pericolosa perché nel momento in cui sostituiremo il nostro nostra oralità con la scrittura rischiamo di non ricordarci più niente questo grossolanamente il senso e questa nonostante sia una frase non recentissima è una frase che ha molta attinenza con gli ultimi sviluppi della tecnologia la seconda il secondo aspetto che diciamo integra questa questa specie di allarme è una vecchia famosa frase di un filosofo italiano che si chiama mauricio ferraris che un librino molto bello che lui dedicò devo dire anche molto illuminato per i tempi in cui fu scritto un libro dedicato ai primi telefonini ammoniva dicendo guardate che la scrittura è prima ancora che creazione di conoscenza condivisione di intelligenza e cose tutto quello che noi normalmente associamo ai libri agli articoli di giornale alla stampa molto prima di questo la scrittura è registrazione e cioè è una sorta di sistema per imprimere delle parole su un supporto e questo è un altro punto che secondo me è molto importante e insomma ci può aiutare un altro punto di partenza nel momento in cui ho cominciato a immaginare cosa significasse a un certo punto smettere di usare la penna perché diciamo il primo grande enorme passaggio culturale degli ultimi decenni è stato quello di molto spesso a scuola ma soprattutto nelle aziende nella ricerca di smettere di utilizzare i manoscritti per cominciare a scrivere attraverso prima le macchine da scrivere poi con i computer ecco questo tipo di idea mi mi fece venire in mente una cosa che non è citata nel capitolo ma che vi mostro adesso perché ho stampato poco fa perché mi era venuto in mente un disegno abbastanza terribile che è questo riesco a farlo vedere forse sì ecco questo disegno che insomma come vedete c'è c'è una mano enorme una bocca enorme è il cosiddetto munculus cioè la rappresentazione delle parti del nostro corpo nelle aree corticali del nostro cervello qual è il significato di questa di questa rappresentazione grafica che riguarda sia la parte motoria che la parte sensitiva è che noi nel tempo da platone in avanti abbiamo sviluppato una serie di competenze neurologiche quindi funzionali che ciascuno di noi ha legate alle aree corticali del nostro cervello nelle quali l'utilizzo diciamo raffinato delle della mano e quindi soprattutto diciamo nell'epoca più recenti la scrittura hanno acquistato un'importanza straordinaria in realtà la rappresentazione corticale di quanto la mano e soprattutto i polpastrelli le dita siano importanti per noi non riguarda esclusivamente la scrittura ma ogni attività particolarmente raffinata che riguardi il lavoro o altre attività ma mi venne in mente questa cosa perché effettivamente a un certo punto noi abbiamo deciso più o meno consciamente forse meno consciamente che più di sostituire un'attività che era molto fine e molto particolare fatta con le dita con un'altra che era estremamente più grossolana cioè spingere con gli stessi polpastrelli su una tastiera e quindi insomma questo è un passaggio un passaggio neurofisiologico ma soprattutto sociale molto molto significativo è il primo passaggio ed è un passaggio che implica tutta una serie di complicazioni che sono ben scritte in moltissimi studi anche scientifici fatti allora cioè quando cominciamo a utilizzare i computer ma soprattutto negli ultimi anni e sono tutti studi autorevoli e concordi che dicono la dico grossolanamente stati attenti perché nel momento in cui cominciamo a usare una tastiera e smettiamo di utilizzare la mano per scrivere perdiamo qualcosa perdiamo molto la nostra capacità di collegare i nostri pensieri con la nostra capacità di registrare come dice ferraris si riduce di molto in altre parole una delle attività principali della nostra vita diventa un'attività con un livello di grossolanità con grossolanità improvvisamente aumentato e questa è una importante conseguenza è ovvio che come in tutte le cose che riguardano la tecnologia c'è un altro piatto della bilancia ed è un piatto significativo pensate soltanto alla capacità di archiviazione noi oggi la gran parte i documenti che archiviamo sono archiviati perché non essendo più scritti a mano sono più semplici da leggere e poi dopo quando sono stati digitalizzati più semplici anche da rintracciare ma sostanzialmente questa è una specie di primo passaggio di una parabola che va improvvisamente da alcuni punti di vista verso il basso e questo insomma è diciamo il primo gradino il gradino successivo a proposito del passaggio fra scrittura manuale cioè land writing come dicono gli inglesi e la scrittura battendo sui tasti cioè il type writing va sottolineato che molto spesso sarà capitato anche a voi di leggere grandi scrittori importantissimi scrittori che raccontano specialmente chi scrive romanzi libri complicati con una trama che della loro necessità di scrivere a mano questa cosa probabilmente se si vuole insomma chiunque può considerarla come un verso come una vecchia abitudine difficile da abbandonare ma credo molto spesso sia di fatto la rappresentazione fisica di questa relazione fra le nostre aree corticali la nostra capacità di immaginare il pensiero e quella poi subito successiva ed immediata di riuscire a renderlo registrarlo in una qualche maniera nel caso specifico su un foglio di carta possibili possibile che nella scrittura creativa la capacità di scrivere a mano continui a essere un valore per alcuni dominante ovvio che questo è un discorso che vale prevalentemente per chi si è trovato a cavallo delle due tecnologie però questa è una cosa da tenere presente dicevo questa specie di percorso che sembra disegnare una curva verso il basso il passo successivo è stato non tanti anni fa quello di abbandonare le tastiere fisiche c'è stata una grande campagna perché io ho trovato veramente deletteria ma insomma andremo a finire a parlare d'altro per cui da alcuni tipi di macchine tecnologiche per registrare ne abbiamo cominciato a utilizzare altre quindi siamo di fatto passato dei passati prima dai computer poi dai notebook siamo andati a finire direttamente agli schermi touch in parte sui tablet ma soprattutto le tastiere virtuali nelle piccole sui piccoli schermi dei telefoni cellulari che sono oggi di fatto il device maggiormente utilizzato in tutto il mondo questa cosa ha probabilmente dico probabilmente perché qui i dati sono meno concordi creato un ulteriore gradino verso il basso siamo scesi ulteriormente sempre osservando questo tema esclusivamente dal punto di vista delle relazioni fra la nostra capacità di registrare e gli strumenti che utilizzano per registrare e quindi insomma sembra un discorso un po anzi è sicuramente un discorso un po deprimente da un punto di vista della nostra capacità c'è uno studio fatto ad oxford un paio di anni fa molto significativo che però riguarda soltanto la fruizione delle notizie che indica è uno studio fatto mettendo assieme dati poi tutto il mondo che indica con discreta chiarezza che quando noi accediamo alle informazioni e quindi guardiamo tocchiamo osserviamo lo schermo di un cellulare e invece le guardiamo dallo schermo di un computer la nostra capacità di comprenderle di approfondirle e di non scivolare da un'altra parte si riduce ulteriormente vale solo per le notizie ma è possibile che questa influenza del terminale sia molto importante anche per tutte le altre attività culturali che oggi filtrano in gran parte attraverso gli schermi cellulari quindi per dire insomma una cosa un po verbosa sul fatto che il mondo sta sempre di più peggiorando e non si vede francamente come possa andare meglio però di fatto la penna è importante perché è il primo di una serie di passaggi tecnologici che riguarda appunto le tastiere e poi gli schermi touch che assolutamente ci condiziona e ci condiziona molto spesso senza che noi ce ne rendiamo troppo conto e questo mi fermo un attimo qui prima di di dirvi quello prima di parlarvi del passaggio terminale che insomma è quello secondo me più pericoloso e più importante per dirvi che questa specie di idea del di insomma decadenza che riguarda le tecnologie che abbiamo utilizzato per registrare è contenuta in una parte del capitolo sulla penna che vi leggo ma che vi leggo non per per ragioni di mia come dire personale vanità ma semplicemente per un motivo molto strano il motivo è che nelle varie recensioni prese di posizione commenti che ho letto in rete in questi mesi dopo l'uscita del libro per una qualche ragione misteriosa queste questi dieci righe sono quelle maggiormente citate ed è una cosa che mi ha colpito poi vi dirò anche per quale ragione è importante che che ci sia una specie di concordanza di questo tipo prima però ve lo leggo un secondo cercando di non leggere male a proposito di questa cosa che dicevamo poco fa e quindi di questo passaggio fra tecnologie sempre meno potenti da un punto di vista culturale a un certo punto scrivo lo vedete anche voi il precipizio osservate anche voi questa traiettoria secondo la quale qualsiasi variazione sempre peggiore della precedente e subito dopo riuscite a immaginare voi stessi improvvisamente restituiti alla vostra iniziale intelligenza con una penna d'oca in mano a intingerla dentro un calamaio in vetro spargendo macchie d'inchiostro intorno e poi magari perfino più indietro fino a una piazza dell'antica grecia nella quale un filosofo poi diventato discretamente noto sta sostenendo appassionatamente la superiorità dell'oralità sulla scrittura vi sembra plausibile un simile percorso a ritroso no vero ecco cito questa cosa perché mi consente di fare un piccolo inciso su quanto nei libri il punto di vista di chi li legge è importante e in gran parte non non noto io qualche anno fa ho fatto un esperimento sul mio libro precedente un esperimento dei tratti curiosi e ridicoli che sono poi quelli che mi appartengono e ho cominciato a comprare due o tre coppie usate di bassa risoluzione perché ero curioso di vedere se in questi libri ci fossero stati dei segni di chi li aveva letti questo è un tema importantissimo secondo me che è trattato estesamente in un altro capitolo del libro che è quello sui libri e ho notato alcuni di questi libri non avevano nessuna traccia probabilmente qualcuno li aveva aperti detto ma questo non mi interessa lo rivendo ma in alcuni c'erano una serie di sottolineature o segnalazioni a margine e quelle segnalazioni per me sono state per me che avevo scritto quel libro sono state un valore difficile da spiegare ma molto importante perché in quel momento lì quell'oggetto lì diventava una specie di oggetto comune che unisce senza saperlo persone completamente diverse una dall'altra mi faceva specie vedere che magari qualcuno aveva sottolineato una parte che io trovavo magari più debole di altre o viceversa e questo questa idea che dentro le cose registrate come dice ferrari rimanga un valore indipendentemente da quali sono i concetti espressi e che questa cosa nei libri di carta sia di fatto ancora molto presente e che sia forse una delle ragioni per cui i libri di carta continuano nonostante tutto a non subire troppo la trasformazione digitale fa in modo che noi dobbiamo immaginare la scrittura stessa quello di cui stiamo parlando ora ma il libro in se stesso come una specie di oggetto che attraversa la vita di moltissime persone anche fisicamente anche come oggetto fisico e che proprio questo questa sua fisicità sia importante mi viene in mente che umberto ecco in una conferenza alla statale che tra l'altro volendo si può ritrovare su youtube a un certo punto diceva incensando in una maniera molto forte il libro cartaceo diceva che uno dei valori del libro è che noi riaprendo lo troviamo un'orecchia che abbiamo fatto per come segnalibro le macchie di marmellata di una mattina che stavamo leggendo mentre facciamo colazione cose di questo tipo ecco questo tipo di approccio all'oggetto libro che non ha niente a che fare con il profumo della carta o altre idee che sono circolate molto in questi anni ma ha a che fare con l'oggetto in sé è secondo me uno dei motivi per cui la scrittura deve continuare ad essere importante e l'archivio deve essere importante se poi l'archivio come nel caso del libro è un archivio fisico questa cosa porterà con sé una serie di valori magari difficili da palpare ma che comunque esistono questo per arrivare all'ultimo punto e l'ultimo punto è una specie di punto recente una deriva tecnologica recente sulla cui diciamo presa di potere io non ho idea nel senso che è troppo presto per rendersene conto di sicuro parte della nostra capacità di registrare nel senso di accedere e salvare informazioni oggi viene mediata da nuovi strumenti che sono legati alla sintesi vocale perché la tecnologia ha questa idea dell'usabilità molto forte e gli stessi messaggi vocali sulle chat che tutti utilizziamo sono un esempio di questa direzione però ecco nel caso per esempio degli assistenti personali quindi quegli oggetti che stanno riempendo le case delle persone in tutto il mondo che sono sostanzialmente software che rispondono alle nostre domande ecco in questo caso da un lato si incrina un po' un'idea una vecchia idea forse forse eccessivamente romantica di internet nella quale la rete sarebbe diventata un'enorme biblioteca di alessandre e dall'altro insomma si apre la possibilità futura speriamo di no di una sorta di restituzione all'idea platoniana cioè il fatto che le nostre parole diventano paradossalmente più importanti delle parole che abbiamo scritto da qualche parte in una specie di inversione del senso nel quale oggi di fatto le parole scritte rimangono archiviate specialmente i formati digitali per essere poi più facilmente riconosciute ecco il rischio quello che quello che i pdi a in qualche maniera possono portare è che l'archivio diventi impalpabile esattamente come nella memoria orale di platone e che essendo impalpabile diventi da un punto di vista dell'accesso nella disponibilità soltanto in questo caso del tecnologo dell'informatico o dell'ingegnere che si occupa del back end di un meraviglioso strumento di interazione come può essere alexa o google o questi sistemi vocali e questa cosa è un grosso rischio perché sia per ragioni ovviamente legate alla riservatezza ma adesso non ci stavamo occupando di questo sia ma soprattutto per ragioni legate all'archivio alla nostra capacità come diceva appunto il filosofo di registrare se il risultato della nostra registrazione non sarà trasparente quindi non sarà sul libro o su una pagina web o su wikipedia o su un archivio di qualunque tipo in formato digitale ma in qualche maniera liberamente accessibile il rischio concreto è che la cultura e la sua elaborazione passi dalle mani di molti alle mani di pochi e questo insomma è una cosa che in qualche maniera dalla penna in qua noi dovremmo cercare di evitare